Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Un altro lutto nel mondo della televisione italiana. È morto, storico capo struttura ed ex dirigente della RAI che lavorò anche più di una edizione di Sanremo. La notizia della sua scomparsa si è diffusa questa mattina via social attraverso i profili di molti personaggi televisivi che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. Ma di chi stiamo parlando? È morto Giampiero Raveggi. Tra questi a rendergli omaggio sul suo profilo Instagram Omadeus con un post corredata con una bella foto di Raveggi. Purtroppo da oggi il nostro grande amico Giampiero non c'è più, ha scritto, un immenso dolore. È stato un privilegio condividere dei momenti belli che saranno per noi indimenticabili, grazie dei tuoi preziosi consigli e della tua sincera amicizia. Tra questi il messaggio di Gigi D'Alessio. È stato il primo a credere in me portando Ryan al mio primo concerto a piazza del plebiscito nel 2000. Un uomo meraviglioso e gentile, un professionista di livello ma soprattutto un signore. Mi mancherai Giampi. Un uomo meraviglioso e gentile lockdowne. Che va? Grazie.